È la prima volta, insomma, fra i migliori del mese. È Antonio Privitera dell'agenzia di San Lorenzo, Roma. Lei è da poco che è diventato Sales Manager. Eh sì, perché durante la Golden Domus Summer Edition in realtà questo gesto esprime un po' quello che è il clima. Secondo me questi risultati per chi fa questo lavoro valgono doppio, perché comunque riuscire a trasmettere un senso di sicurezza a chi vende e chi compra è una grande sfida e quando la vinci alla fine devi soltanto che battere le mani a chi ti sta cercando di insegnare un lavoro. Certo. Lei è entrato con noi senza esperienza? Sì, esattamente. Io ho iniziato lo stage, come fanno tutti. A giugno 2020? Esatto, a giugno 2020. Lo stage ti permette soltanto di assaporare quello che può essere un po' il clima lavorativo. Poi in realtà nei mesi successivi scatta qualcosa. Allora se sei determinato, ovviamente soprattutto in fase di la base proprio, notizie e acquisizioni, i risultati arrivano. Perché comunque io sono soddisfatto anche perché ho seguito proprio passo passo quella che era la base dell'attività, concentrandomi su quella, la parte produttiva fondamentalmente. Facciamo crescere le persone, gli diamo delle opportunità, come è successo con lei, in un anno solo si possono fare grandi passi. È un'opportunità che bisogna cogliere. Grazie ancora e spero di vederci presto anche nei prossimi mesi. Però, saluti. Saluto. Saluto. Saluto di talve. Saluto. Saluto.